Il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsiglio, ha firmato nella giornata di ieri una nuova ordinanza il quale vieta l'ingresso e l'uscita, salvo per comprovate esigenze di lavoro e di salute, per i comuni di Pescara, Montesilvano, Spoltore e Francavilla al mare, per la durata di 14 giorni. Nella stessa ordinanza è stato stabilito inoltre un monitoraggio intensivo per sei comuni della nostra regione, tra i quali figura anche Pianella. La situazione ad oggi in città resta sotto controllo, con lo screening effettuato nei giorni scorsi sulla popolazione scolastica, che ha fatto registrare una sola positività su 500 test effettuati. È chiaro che l'aumento di contagi comunque da parte nostra è stato tempestivamente attenzionato ai fini anche del contenimento e dell'assistenza ai soggetti risultati positivi e oggi il Comitato Tecnico Scientifico evidentemente prende atto di questa crescita e giustamente accende un faro al fine di avere un monitoraggio costante, puntuale e tempestivo per evitare che ci siano ulteriori propagazioni. Il primo cittadino ha poi chiesto alla Protezione Civile Regionale la propria volontà ad organizzare per le prossime settimane un nuovo screening di massa aperto a tutta la popolazione. Il sindaco, che nella serata di ieri ha avuto un colloquio con l'assessore alla salute Nicoletta Verri ribadisce come in questo momento di emergenza il contact tracing in collaborazione con le amministrazioni comunali sia fondamentale per il tracciamento veloce dei casi positivi. La proposta è quella di coinvolgere di più le amministrazioni comunali soprattutto nella fase di tracciamento e di prima gestione dei contagi affinché questi poi non si propaghino e su questo ritengo che comuni che ai noi in tante emergenze hanno dato grande prova di tempestività e di efficacia con la loro azione sul territorio possono essere un'arma fondamentale che forse non è più il caso di tenere in panchina visti questi dati.